Il Vangelo secondo Matteo Z, Z non di Zoro ma di Zuppi, Emilio Marrese, intanto grazie di aver citato questa intervista, così parliamo di questo docufilm 67 minuti sull'Arcivescovo di Bologna. Ma come ti è venuta intanto l'idea Emilio? Mi è venuta l'idea semplicemente perché il Vescovo mi ha fatto subito molta simpatia sin da quando è arrivato a Bologna e oltre alla simpatia c'è stato anche quello che ha iniziato a dire e a fare nella sua opera quotidiana e quindi mi è venuta l'idea di raccontare più da vicino quello che è il mestiere del Vescovo, professione Vescovo, abbiamo titolato, sottotitolato in modo quasi blasfemo ma mi auguro simpatico. Questo suo lavoro quotidiano l'abbiamo seguito in una sorta di giornata ideale, frenetica, ricca di incontri con chiunque, dai politici agli economisti ai filosofi ai senza tetto, agli anziani, ai bambini, agli studenti e volevamo raccontare il suo pensiero e il suo lavoro un po' meglio per diffonderlo anche. Allora intanto questo che è il DVD che contiene appunto questo docufilm potete comprarlo, acquistarlo, per cui vi lasciamo alla visione serena e lo ritrovate nelle librerie e quindi insomma avete delle edicole. Ma io voglio capire invece come ti è sembrato insomma vivendo dietro le quinte col cardinale. Mi è sembrato che innanzitutto ci vuole davvero un fisico bestiale per come interpreta lui il proprio ruolo di Vescovo perché sono giornate dalle 6 del mattino a mezzogiorno in cui ci vuole davvero molta energia per potergli stare dietro con la telecamera. Mi ha colpito molto ma non è stata una sorpresa la capacità di entrare subito in sintonia con chiunque incontri indipendentemente dal modo di pensare a volte opposto, dal credo non soltanto religioso, dalle idee diverse però comunque un personaggio che entra in comunicazione immediata con chiunque. mi ha colpito molto l'affetto che lo circonda ovunque a Bologna anche se so che ce ne sono tanti che comunque non sono d'accordo con la sua politica tra virgolette messa in campo nella sua azione quotidiana però è comunque un personaggio che ha segnato secondo me una svolta che poi altri analizzeranno con maggiore competenza in quello che è il ruolo e la presenza della Chiesa nella diocesi bolognese. Tu hai già fatto outing per cui non svelo nulla nel senso che non sei una persona di fede, di credente. Ecco, diciamo con quest'occhio vedere questo arcivescovo, quindi anche l'uomo Matteo Zuppi, Matteo Maria Zuppi che appunto incontra e fa, cosa significa? Ma significa comunque riconoscersi al di là del credere o non credere nei concetti che esprime e io dico sempre sono ateo pur venendo da una famiglia anche molto cattolica però porto molto rispetto, stima e anche curiosità, attrazione verso qualcosa che da ateo rimane anche inconcepibile come è il credere, insomma diciamo che sono atteggiamenti reciproci come si fa a credere pensano gli atei, come si fa a non credere pensano i credenti però al di là di questo c'è appunto un grande rispetto per chi interpreta il ruolo sociale della Chiesa la Chiesa ha un ruolo, piaccia o meno, storico, innegabile nella storia dell'umanità, del mondo e a me piace chi lo interpreta in questo modo. Senti, guardando questo docufilm, come dire, sei riuscito, e questo effettivamente da non credente è anche questa cosa straordinaria, a far capire a tutti cos'è questa Chiesa in uscita perché ormai da quando è arrivato a Papa Francesco ho detto Chiesa in uscita e poi con Zuppi molti dicono ma che è questa Chiesa in uscita? È qua. Sì, è una Chiesa che non sta mai in casa come Zuppi, sta pochissimo chiuso dentro una stanza e va incontro, va incontro a chiunque per dialogare, capire, farsi capire, spiegare e questa è la Chiesa in uscita secondo Papa Francesco. Senti, devo anche chiederti qualcosa di questo docufilm, che proprio è una storia, sono storie che si intrecciano c'è il protagonista, è sempre lui, però c'è un dialogo con Alessandro Bergonzoni al Teatro Comunale c'è Alduse, scusa Alduse, così abbiamo salutato tutti i teatri, salutiamoli tutti ma di fatto c'è questo modo di stare appunto nella gente e voi fate vedere, gli siete stati proprio appiccicati. Sì, siamo stati 12 giorni di riprese, più o meno dalla mattina alla sera, qualche volta di più, qualche volta di meno però l'abbiamo seguito in macchina, in sacristia, nella sua stanza dove fa colazione con gli altri sacerdoti ospiti della Casa del Clero dove vive, negli incontri anche a margine, nei cosiddetti fuori onda degli incontri pubblici nelle scuole, i dibattiti, le occasioni pubbliche che sono tante gli siamo stati parecchio addosso, all'inizio quando ha accettato con entusiasmo, devo dire, questa proposta mettendo così come unica condizione che non fosse celebrativo ma soltanto divulgativo in realtà poi alla fine viene automaticamente ad essere anche un po' celebrativo della sua figura però all'inizio non si aspettava tanta invadenza, quindi dopo un po' il suo pudore pur essendo un personaggio mediatico sicuramente lo abbiamo un po' imbarazzato qualche volta con questa presenza molto costante di questa telecamera addosso però insomma ha sopportato alla fine pazientemente, come dice nel documentario, deve fare un vescovo Senti, dopo 12 giorni vissuti così, adesso siete diventati amici con il Cardinale o vi siete presi un tempo di pausa? No, no, anzi, credo che il rapporto cordiale e personale che a Bologna Don Matteo ha contenuto tantissima gente, quindi non ho un privilegio particolare rispetto a tantissimi altri però penso che sia stato anche soddisfatto del lavoro, che ci sia stato il modo anche di conoscersi un po' meglio e quindi è un rapporto di simpatia credo reciproca, di stima, che mi auguro possa crescere ancora anche attraverso questo documentario, prima scusami, di Alessandro Bergonzone che è una presenza importante e forte del documentario la sua lunga intervista che abbiamo realizzato al Duse con Zuppi fa da spina dorsale al documentario scandendo nei temi i momenti però poi l'integrale che sono oltre mezz'ora è nei contenuti extra del DVD Senti, in chiusura, un pensiero anche a tutto il lavoro di produzione, di post-produzione, di montaggio perché al di là del regista, al di là della visione giornalistica e poi questo comunque sia, ha ovviamente uno stile bello anche perché c'è uno stile giornalistico ecco, un pensiero anche a chi ha montato? Sicuramente, ti ringrazio della domanda, come si dice in questi casi perché comunque mi dai l'occasione per sottolineare i meriti di tutti perché senza i soldi e il lavoro degli altri non si riesce a fare nulla da soli e quindi la produzione, sì, produzione di Luigi Tortato che ha vinto i bandi di finanziamento della Film Commission dell'Emilia Romagna e del Comune di Bologna più un pool di aziende che ci hanno sostenuto e poi invece per quanto riguarda la parte tecnica Paolo Marzoni, detto sbrango, al montaggio fondamentale una fase di montaggio sempre molto bella e faticosa con anche visioni contrapposte che alla fine devono trovare una sintesi un po' come Zuppi tutti i giorni quando scende in strada e incontra chiunque e poi la fotografia di Gabriele Chiapparini e Marco Ferri il suono di Riccardo Rossi queste sono state le figure fondamentali insieme alla grafica di Carmen Schertino e Roberta Samperi per la riuscita di questo documentario che mi ha detto il Vescovo in Camera Caritatis manca un po' la parte liturgica in effetti essendo lì viene fuori forse l'autore laico un po' meno interessato all'aspetto spirituale anche se in qualche modo sono spirituale anch'io sono molto attratto dagli aspetti spirituali però è soprattutto sui contenuti, sui temi di attualità sul suo pensiero e il suo modo di agire nella vita di tutti i giorni quella di tutti noi nella quale Zuppi si muove con grande destrezza Forse poteva essere dall'Arcivescovo una sorta di richiesta di una seconda puntata? Non credo che voglia magari il materiale ci sarebbe perché abbiamo 20 ore di girato abbiamo buttato via dolorosamente anche tante cose molto belle se ci ripresentiamo con la telecamera di nuovo per altri 10 giorni non so quanto posso essere contento ma magari una seconda edizione con il materiale avanzato potrebbe essere un'idea Allora grazie Emilio Marrese il Vangelo secondo Matteo Z, professione Vescovo nelle edicole, nelle librerie perché veramente credo che sia un'occasione per vedere questa chiesa in uscita per vedere il nostro Arcivescovo con l'occhio di Emilio Marrese un occhio non del fedele che va a messa tutti i giorni No, se mi lasci dire l'ultima cosa in effetti sono contento tanto che sia stato apprezzato questi giorni da chi già l'ha visto, diciamo, cattolico e quindi i fan di Zuppi sono tanti ha un seguito molto caloroso mi voglio rivolgere con questo lavoro anche a chi segue molto più distrattamente con un pregiudizio come quello che abbiamo molti noi atei segue troppo distrattamente si è accorto che magari a Bologna c'è un Vescovo un po' diverso dal solito però comunque essendo un prete non è portato a dargli ascolto secondo me ascoltandolo ci trova tante cose che possono far bene a tutti credenti o nonne come mi ha scritto un mio amico dopo la proiezione esci che hai un po' più di speranza e di questi tempi secondo me non va buttato via e quindi scopriamo che alla fine Emilio Marresa più fede di un fedele questo possiamo dire come conclusione grazie davvero per questo lavoro e come dire insomma il Vangelo secondo Matteo perché no anche in questo tempo di Natale può essere un modo bello per stare e guardarsi in famiglia grazie davvero grazie, grazie a voi buon Natale buone feste grazie a voi grazie a voi